Sassaiola contro sei convogli della linea verde mentre transitavano vicino alla fermata Crescenzago. È successo ieri sera tra le 7 e le 7 e mezza. Per fortuna nessun passeggero è rimasto ferito. Il raid era organizzato e il gruppo di vandali aveva preparato molte munizioni e caccia i componenti della banda. Il centro operativo comunale è mobilitato per l'allerta neve. I fiocchi dovrebbero cadere nella serata e nella notte con un accumulo previsto di circa 3 centimetri che non dovrebbe causare grossi problemi. È attivato però il piano di intervento con Palazzo Marino che chiede ai cittadini di limitare l'uso delle auto private nelle prossime ore. Scontro tra regione e comune di Milano sul biglietto unico messo in stand by giusto ieri dall'aula del Pirellone. Il sindaco Sala conferma l'aumento del tagliando ATM e bolla come strumentale la decisione del Consiglio regionale. Un atto politico più che uno stop motivato dal buonsenso. Intanto da domani la sosta sulle strisce blu si potrà pagare anche con un SMS. È italiano, anzi lombardo, il più antico dinosauro carnivoro del mondo. Presentato oggi a Palazzo Reale dai paleontologi del Museo di Storia Naturale si chiama Saltriovenator Zanellai. È vissuto quasi 200 milioni di anni fa ed era lungo circa 8 metri per un peso di una tonnellata. Buonasera a tutti, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Trenova e con il nostro TGN che si apre con quello che è accaduto ieri nei pressi della stazione della metropolitana di Crescenzago, la linea è quella verde, la 2, dove un gruppo di persone si è reso responsabile di un lancio di sassi contro i convogli che passavano sui binari. Nessun ferito per fortuna, si ipotizza che possano essere dei ragazzi della zona che hanno voluto fare una bravata ma è ancora in corso la caccia ai responsabili di quanto accaduto. Sentiamo tutto nel servizio di Michele Lanati. Una vera e propria sassaiola. Sei convogli della linea 2 della metro sono stati colpiti nei pressi della fermata Crescenzago tra le 19 e le 19.30 di ieri, dunque proprio in un'ora di punta. Vetri in frantumi, tanta paura per macchinisti e passeggeri, ma per fortuna nessun ferito. Gli episodi si sono verificati mentre i treni viaggiavano in superficie all'altezza di via Palmanova. È caccia all'autore o agli autori che sono riusciti a scappare prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. La sensazione è che si tratti di una cosa organizzata e preparata con cura. I sassi avevano infatti tutti dimensioni simili e i lanci sono avvenuti tutti presumibilmente da un parcheggio vicino a Crescenzago, in via Narni, dove i teppisti si sono riuniti prima di attaccare. Altri sono stati trovati su un carrello da cantiere proprio nei pressi di quell'area. Erano grandi quanto una pallina di tennis, a sufficienza dunque per spaccare i vetri rinforzati dei mezzi, ma non abbastanza per sfondarli. L'intento forse era quello di spaventare i passeggeri, ma non di colpirli. Gli episodi, al di là dei danni provocati, non hanno avuto infatti gravi conseguenze, anche se la circolazione ha subito dei ritardi. Nella notte poi grande lavoro dell'ATM, che ha provveduto a riparare due dei convogli colpiti, mentre gli altri quattro sono stati sostituiti. In un caso è stato centrato il parabrezza del macchinista. Oggi la circolazione è tornata alla normalità e si cerca anche di capire il motivo che abbia portato gli autori a compiere quel gesto e a colpire proprio in quel punto. Non è escluso che si tratti di ragazzi che abitano nella zona. Potrebbe dunque essersi trattato di una semplice bravata, che avrebbe potuto avere però conseguenze molto gravi. E' attesa la neve a Milano già nei prossimi minuti. Poi dalle 22 dovrebbe esserci un'intensificazione delle precipitazioni nevose, tant'è che il Comune di Milano a mezzogiorno ha attivato il centro operativo comunale che si è riunito e ha pianificato le attività preventive. Questo l'ha comunicato ovviamente Palazzo Marino. L'accumulo previsto nella notte e nelle prime ore del mattino è relativamente contenuto, intorno ai 3 centimetri, ma saranno le temperature in abbassamento durante la notte a richiedere particolare attenzione per evitare che le strade ghiaccino. Abbiamo attivato quindi il piano di intervento che al momento prevede il preposizionamento dei camion spargi sale di AMSA, dotati di attrezzatura per la lamatura della neve dalle strade, e già in questa serata. Inoltre sono previsti i servizi di salatura ed eventuale sgombero della neve da strade e marciapiedi nel corso della mattinata di domani. Il Comune invita gli amministratori condominali e proprietari a spargere sale sui marciapiedi e si raccomanda di limitare per quanto possibile l'uso delle auto e di preferire l'utilizzo dei mezzi pubblici per gli spostamenti in città durante la nevicata. Un mezzo di AMSA, ne parliamo ancora perché non è iniziata benissimo la mattinata e la giornata di oggi per AMSA, un suo mezzo è andato a fuoco questa mattina, poco dopo le 7, verso le 7.20, in via Buozzi, nella zona industriale nei pressi del quartiere Mulini a Segrate. Per motivi da accertare il furgone per lo spazzamento meccanizzato è stato avvolto dalle fiamme ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che, come vedete, in queste istantanee hanno prontamente domato il rogo che non ha comunque provocato feriti. I due operatori che erano a bordo sono riusciti infatti a uscire in tempo prima che le fiamme divorassero l'abitacolo e poi il cassone retrostante. A chiamare i vigili del fuoco sono stati gli stessi netturbini. L'azienda, l'AMSA, sta svolgendo tutte le necessarie verifiche per risalire alla causa di questo incendio. Ancora trasporti questa volta perché è scontro tra Regione Lombardia e Comune di Milano sulla sperimentazione del nuovo sistema tariffario che avrebbe dovuto partire in concomitanza con l'aumento del biglietto ATM e che invece a questo punto dovrebbe slittare. In seguito al rinvio di un emendamento in commissione deciso dal Consiglio regionale in pratica entrerà in vigore il rincaro del biglietto ma non il nuovo ticket integrato. Polemico il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, che parla di una decisione non nel merito ma politica. È polemica tra Regione Lombardia e Comune di Milano in merito al biglietto integrato per l'utilizzo dei mezzi pubblici nel capoluogo e nell'Interland. Ieri il Consiglio regionale avrebbe dovuto approvare un emendamento che consentiva, in concomitanza con l'aumento del biglietto dell'ATM da 1,52 euro, la sperimentazione del nuovo sistema tariffario. Forza Italia e Movimento 5 Stelle hanno chiesto e ottenuto però il rinvio in commissione del provvedimento. Quindi tutto bloccato, con conseguente irritazione del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che oggi ha attaccato la Regione accusandola di privilegiare la contrapposizione politica al buonsenso. Noi, ha spiegato Sala, dobbiamo comunque andare avanti e abbiamo bisogno di aumentare il biglietto, ma dobbiamo lavorare anche sull'integrazione dei sistemi. I cittadini devono avere più chiarezza sulle tariffe. La Regione, tramite l'assessore ai trasporti Claudia Terzi, ha fatto sapere che la presa di posizione non è stata della Giunta, ma del Consiglio nel suo complesso, che ha chiesto un ulteriore approfondimento. A questo punto è probabile che l'aumento del biglietto, previsto tra marzo e aprile del 2019, avvenga comunque, mentre la tariffa integrata potrebbe slittare. I conti della Regione, ha spiegato Sala, sono decisamente più ricchi dei nostri, perché i comuni sono più in difficoltà. L'aumento del biglietto è dovuto ai vari lavori di miglioramento del trasporto pubblico e, ha aggiunto maliziosamente il primo cittadino, invito a fare una riflessione sul nostro servizio rispetto a quello degli altri. Intanto, a partire da domani, a Milano, la sosta sulle strisce blu si potrà pagare anche attraverso un SMS. Andranno quindi in pensione dal 15 gennaio, come spiega una nota di ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, come sapete, i Gratta e Sosta. Quelli acquistati in precedenza potranno essere utilizzati fino al 31 marzo 2019. Nel pagamento tramite SMS al numero 48444 basterà indicare il codice dell'area di sosta, visualizzabile sul cartello stradale, e la targa del veicolo, separati da un punto. Il servizio è disponibile per i clienti Team, Wind3 e Vodafone e l'importo sarà scalato direttamente dal conto o dal credito telefonico. Regione Lombardia ha inserito nel bilancio appena approvato 15 milioni di euro come contributi per chi deve sostituire un'auto inquinante a diesel. Più precisamente 10 milioni sono incentivi per le auto, mentre 5 sono riservati ai veicoli commerciali. Si tratta, ha sottolineato l'assessore regionale all'ambiente Raffaele Cattaneo, di risorse importanti che permettono di limitare l'inquinamento senza scaricare sui cittadini i blocchi della circolazione. Ai divieti ha spiegato preferiamo gli incentivi e il bilancio regionale con questi nuovi stanziamenti testimonia la volontà di non scaricare sui cittadini i provvedimenti legati alla circolazione delle auto. Intanto chi deve cambiare il mezzo commerciale, tra virgolette, sono gli ambulanti ovviamente, sono in manifestazione nonostante il freddo, la pioggia e la neve in arrivo a Milano. Si sono ritrovati nei bastoni di Porta Venezia con i loro fumogeni e i loro striscioni contro Area B, perché loro dicono che un migliaio più o meno di loro rischiano di essere multati e di non lavorare quando scatterà l'Area B, visto che non hanno i fondi e i soldi per comprarsi un mezzo nuovo. Chiedono quantomeno un'ora di tempo per transitare nell'arco della giornata all'interno di Milano perché la mattina, prima delle sette e mezza, riescono sicuramente, riusciranno ad essere a Milano per i mercati, ma poi dovrebbero aspettare la fine, quindi la serata. di 19 quando termina Area B, quando terminerà Area B per lasciare il capoluogo Lombardo, invece loro vorrebbero una finestra per potersi allontanare dalla città. La cronaca, giornata importante quella di domani nel processo che vede come parte civile Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e appunto di Bettarini, Stefano Bettarini, aggredito con otto coltellate lo scorso luglio da quattro ragazzi che ora sono accusati di tentato omicidio, domani è il giorno in cui proprio lui, Niccolò Bettarini, sarà in aula per testimoniare. Adesso tutti sapranno la verità. A parlare è Alessandra Calabro, avvocato di Niccolò Bettarini, figlio 19enne dell'ex calciatore Stefano e di Simona Ventura, aggredito lo scorso primo luglio all'esterno di una discoteca. Domani il ragazzo testimonierà in aula, assieme a tre amici, davanti al giudice per le udienze preliminari Guido Salvini, nel processo con rito abbreviato a carico dei quattro giovani, tutti tra i 23 e i 29 anni, finiti in carcere con l'accusa di tentato omicidio per averlo aggredito con calci pugni e otto coltellate. Il mio assistito, ha spiegato il legale di Bettarini, è a completa disposizione dell'autorità giudiziaria per l'accertamento definitivo dei fatti. Domani parlerà in udienza e così tutti apprenderanno quel che è realmente successo. Domani dovrebbe essere ascoltato anche il perito nominato dal giudice e si dovrebbe conoscere l'esito della perizia sulla cartella clinica di Bettarini. Per l'avvocato Calabro, inoltre, il recente provvedimento da parte della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, presieduta dal giudice Fabio Roia, che ha deciso di applicare per due anni la sorveglianza speciale a Davide Caddeo, uno dei quattro ragazzi accusati di tentato omicidio, in quanto ritenuto soggetto socialmente pericoloso, evidenzierebbe, secondo il legale di Bettarini, l'indole delinquenziale e l'abituale condotta criminosa del ragazzo. Nel frattempo il PM Elio Ramondini ha chiesto dieci anni di carcere per i quattro giovani che devono difendersi dall'accusa di tentato omicidio, mentre il giudice ha deciso di disporre una perizia sull'entità delle lesioni subite da Bettarini, oltre ad ascoltare in aula il ragazzo e i suoi tre amici. Domani dunque si capirà qualcosa in più su quanto avvenuto il primo luglio e su cosa ha provocato quella lite. Denti aguzzi come pugnali e zampe artigliate forti come l'acciaio, è italiano, anzi lombardo, il più antico dinosauro carnivoro di grandi dimensioni scoperto al mondo che, retrodata di 25 milioni di anni, la comparsa dei grandi dinosauri predatori sulla terra. Si chiama Saltriovenatur zanellai ed è un giovane ceratosauro vissuto 200 milioni di anni fa nell'attuale Lombardia appunto. Questo cacciatore ad andatura bipede viveva tra le spiagge tropicali e le foreste lussurreggianti che ricoprivano la parte occidentale di quella che adesso è la nostra regione. Lungo quasi 8 metri e pesante una tonnellata era una sorta di macchina da guerra. L'identikit è stato svelato oggi a Palazzo Reale dai paleontologi Simone Maganucco, Andrea Cau e Cristiano Dalsasso, che ascoltiamo. Oggi finalmente abbiamo presentato il primo dinosauro lombardo che è anche importante nel mondo in quanto è il più antico e grande dinosauro predatore del giurassico inferiore, un record davvero mondiale che ci dice che la Lombardia era molto diversa da oggi, 198 milioni di anni fa c'erano anche degli grandi predatori come questo Saltriovenatur zanellai, nuovo genere e nuova specie, unico al mondo. Il Museo di Storia Naturale di Milano si conferma quindi istituto leader nello studio dei dinosauri in Italia, 3 su 5 li abbiamo studiati lì. Cambiamo decisamente argomento, per i 10 anni del Fondo Famiglia Lavoro che fu istituito la notte di Natale del 2008, l'Arcivescovo, Monsignor Mario Delpini, indirizza una lettera di ringraziamento a tutti i fedeli. D'ora in poi il fondo rientrerà nell'attività ordinaria di Caritas Ambrosiana. Ci racconta tutto Anna Maria Braccini. A ciascuno rivolgo un grande grazie per la generosità con cui abbiamo saputo far fronte a momenti di difficoltà seminando tracce di amore e di solidarietà capaci di lenire le ferite e le fratture provocate da una crisi non soltanto economica. Scrive così l'Arcivescovo di Milano a tutti i fedeli ambrosiani e alle persone generose che ci hanno sostenuto riguardo al Fondo Famiglia Lavoro che nella notte di Natale compirà i 10 anni. Infatti di fronte all'avanzare della crisi, l'allora Arcivescovo, il Cardinal Dionigi Tettamanzi, lanciò l'iniziativa del Fondo Famiglia Lavoro stesso. Personalmente costituisco il Fondo Famiglia Lavoro per venire incontro a chi sta perdendo l'occupazione. A lui, scrive Monsignor Delpini, va tutta la nostra gratitudine. Continuato e sviluppato poi dal successore, il Cardinale Angelo Scola, in questi 10 anni in fondo è riuscito ad aiutare più di 10.000 famiglie, raccogliendo e ridistribuendo 24 milioni di euro. Oltre ai grandi donatori istituzionali, tra i quali Fondazione Cariplo e l'Arcidiocesi stessa, sono state soprattutto migliaia le persone e le parrocchie che hanno contribuito, permettendo di raggiungere una simile cifra. E poi c'è il lavoro di centinaia di volontari. Attualmente nella terza fase, diamo lavoro, 380. Scrive ancora l'Arcivescovo che nota, giunto alla terza fase, il Fondo ha ormai individuato in modo sufficientemente preciso l'obiettivo del suo intervento e della sua azione, favorire il reinserimento dentro il mondo del lavoro e quindi l'annuncio. Mi sembra utile che questo decimo anniversario sia anche il momento adatto per trasformare il Fondo Famiglia Lavoro, rendendolo non più intervento straordinario ma strumento ordinario nelle mani della Caritas Ambrosiana, che seguiterà a operare perché i distretti che sono sorti continuino a svolgere il loro servizio di accoglienza, ascolto e reinserimento. Ormai è una tradizione quella della festa di Natale, organizzata dai City Angels per i senza tetto della stazione centrale, preceduta da una preghiera interreligiosa. Sarà lunedì 24 dicembre a mezzogiorno davanti al memoriale della Shoah, al binario 21. Diremo insieme che Milano è una città aperta, aperta a chi viene per lavorare e integrarsi, indipendentemente dalla sua etnia o religione, è aperta alla speranza. Le sfide non devono farci paura ma darci coraggio, afferma Mario Furlan, fondatore dei City Angels, che lancia anche un appello ai milanesi. Partecipate a questo momento di spiritualità e di solidarietà per vivere con noi l'autentico spirito del Natale. Domenica 6 gennaio poi i City Angels organizzano la tradizionale, anche questa, befana del clochard. Grazie a Daniela Iavarone, 200 senza tetto pranzeranno al principe di Savoia con un menù curato, pensate, dallo chef stellato Cristian Garcia, chef personale del principe Alberto di Monaco, che verrà a Milano per l'occasione. I senza tetto verranno serviti ai tavoli da personalità delle istituzioni e anche da 50 studenti delle scuole medie, inferiori e superiori. Questa era l'ultima notizia per il nostro telegiornale odierno, dopo di noi come al solito le notizie sportive e soprattutto calcistiche ovviamente con il nostro NTG e poi il WAGS e ancora calcio con Nova Stadio, Michele Marchetti e i suoi ospiti vi terranno compagnia fino alle 23. Grazie per averci seguito, buona serata, restate su Telenova. Grazie a tutti.